La raccolta maestà del cortile di San Damaso, su cui si aprono le meravigliose loggie di Raffaello e che può dirsi il centro ideale della città del Vaticano, si è popolata di tre lati e personalità del mondo ecclesiastico in occasione del concistoro, durante il quale il sommo pontefice ha assegnato i titoli e imposto l'anello e la berretta cardinalizia a cinque nuovi porporati, le loro eminenze piazza, pellegrinetti, chisli, pizzardo e gerlier. La raccolta maestà La raccolta maestà La raccolta maestà